Simone muove le gambe per aggiustare la sua posizione. Elena è frizzata completamente come Andrea Locicero. È Simone che sembra essere in difficoltà perché il fango giustamente rende scivolosa la presa e quindi più difficile la permanenza appeso. Andrea Locicero si è sistemato, Elena rimane fermissima. Simone continua ad aggiustare la posizione cercando un movimento di piedi che gli permetta di alternare mano destra e mano sinistra e aggiustare la sua posizione. Andrea Locicero sembra essere sicuro come Elena, le mani iniziano a far male. Elena riaggiusta la sua posizione, entrambi stanno resistendo molto tempo. Complimenti ragazzi, Andrea riaggiusta la posizione, il peso inizia a farsi sentire, la gravità gioca un effetto che ovviamente rende più difficile la prova. Il sangue inizia e Andrea è Elena, calmo praticamente nello stesso momento. Il leader dell'isola dei famosi nella sua prima settimana è Simone! Bravo! Bravo Simone! Bravo Simone! Bravo! Complimenti Simone!